Senti, va bene abbiamo... No, sta in telefono. Scusa, chi è che chiama? Chi è che chiama? No, vi prego! Basta! Pronto? Ecco! Allora, buongiorno, la signora Sondoni? No, ha sbagliato numero, evviva Radio 2! Ma porca vacca, ha sbagliato numero! Guardi, non si può parlare di politica, è par condicio siamo, eh! A me lo dite? Eh! Lo dite a me, che sono un privato cittadino! Ieri avete fatto un casino con la storia delle schede! Siamo in onda, eh? Sì, siamo in onda, evviva Radio 2! In tutta Italia! Sì! Comunque io sono un lomino delle bibite! Va bene, sì! Lomino delle bibite, va bene! Sì, perché? Non posso essere un lomino? Lei lo dichiara, va bene! Sto cercando la signora Sondoni, mi ha ordinato l'acqua! Non è qui, ha sbagliato numero! Ma io... Ho sbagliato numero? Sì, sì! Viva Radio 2! Viva Radio 2! Ah, quindi siamo alla radio! Sì, esatto! E va bene, quindi, non essendo un politico, insomma, posso anche dire delle cose, diciamo! Mh, se non... Sono politiche, sì! Basta non fare propaganda! Ecco! Ma per... Io non faccio propaganda! L'ho detto che porto bibite! Sì! Mi capisce? Porto bibite! Sono un lomino delle bibite! Sì, va bene! Che bibite ha? Sentiamo! Allora, c'ho l'aranciante a tuo marchio! La spuma bianca, la spuma rossa! Ma non c'è più, va bene! Anzi, no! Quella rossa, no! Eh, eh! Non ce l'ho! Sì, va bene! Già! Ma siamo in diretta, eh? Sì, siamo in diretta! Questo è periodo, come dite voi? Elettorale, dunque non possiamo... Par condicio, non possiamo parlare di politica! Faccio a fare entrare su un po' di proprietà! Allora, c'ho anche una casa da consegnare di acqua di arcore! Beh, sì! Vabbè, potrebbe anche... Guardi che è un'acqua miracolosa! Gliene lascio un bottiglione, eh! No, 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 no! Scusi! Voleva dire bottiglione con la O! Bottiglione! Vabbè, bottiglione, insomma, dai! Bottiglione con la O! Mi raccomando! Non dimenticare! Non dimenticate, anzi, che c'è anche il voto a rendere! Vuoto con la U! Vuoto a rendere! Come parla, mi dice, bottiglione con la O! Vuoto con la U! Ma l'italiano, lo sa? Dove ha studiato? Dove ha studiato? Da quegli ignoranti delle case del popolo? No, ecco, no! Lei, per essere l'omino delle bibite, parla troppo di politica! Ha ragione, ha ragione, ha ragione, ha ragione! Magari la gente pensa che avendo questa voce uguale a quell'altro... Eh, esatto! Esatto, esatto! Allora, saluto e torno al mio onesto lavoro! E ricordate, prendete l'acqua delle libertà! No, no, no! E' un'acqua che disseta la maggioranza degli italiani! Basta, basta! Lo sto facendo! Ma poi la propaganda! Ma cosa dici?